Pubblicate le delibere dell'Asla di Salerno che puntano a dare attuazione all'atto aziendale per i presidi ospedalieri di Vallo della Lucania, Polla e Sapri. Il direttore generale dell'Asla di Salerno, Antonio Giordano, dovendo adeguare gli ospedali alle disposizioni regionali, ha deliberato affinché vengano riorganizzate le loro attività secondo la nuova conformazione aziendale. Il che si traduce per Vallo della Lucania, come già annunciato, nella sua trasformazione in DEA di primo livello. Per Polla e per Sapri, nella loro individuazione come pronto soccorso nell'ambito dell'assistenza ospedaliera aziendale, provinciale e regionale, con tutte le discipline, le specialità e posti letto che sono stati assegnati loro negli ultimi piani approvati. Il presidio di Sant'Arsenio, invece, diventa struttura territoriale con ospedale di comunità e unità complessa di cure primarie. Nulla di nuovo in realtà rispetto a quanto detto nei mesi scorsi, ma le delibere, tra l'altro definite immediatamente eseguibili, dimostrano che si sta procedendo, anche in maniera spedita, sul cammino che era stato tracciato, differentemente da quanto avvenuto in passato. È pur vero però che negli stessi atti deliberativi si evidenzia che per le discipline di nuova attuazione si agirà nel corso di tre anni, che è il tempo di validità del piano ospedaliero, quindi in maniera non così immediata come può sembrare a prima vista, mentre per interventi più semplici, come il passaggio ad esempio di alcune unità da complesse a dipertimentali, l'azione sarà più rapida. Tra le disposizioni previste nelle delibere c'è anche l'annunciato accorpamento della direzione sanitaria dei presidio ospedalieri di Sapri e Polla con quella dei relativi distretti sanitari. Ci sarà dunque un solo dirigente per l'ospedale e il distretto di Sapri e uno solo per l'ospedale di Polla e il distretto di Sala Consilina. Al momento però resta tutto com'è, in attesa che si concludano le procedure concorsuali in corso avviate proprio per individuare le figure apicali che dovranno ricoprire questi ruoli dirigenziali. Tra di esse ci sarà anche il primario del reparto di cardiologia dell'ospedale dell'Immacolata di Sapri che dovrebbe essere a breve nuovamente istituito.